L'invalidità al tempo del coronavirus. La mia esperienza è con i miei genitori perché sia mia madre che mio padre sono invalidi al 100%. Mio padre era ricoverato in ospedale proprio i primissimi giorni in cui è scoppiato tutto il caos per il coronavirus e quindi per via delle direttive che c'erano per il virus è stato messo in isolamento giustamente ma una persona delicata, fragile come lui che non poteva mangiare da solo, non poteva bere da solo, anzi aveva bisogno di un'assistenza 24 ore su 24 perché ad esempio nel caso di mio padre lui si sarebbe subito tolto la flebo, il catetere eccetera eccetera quindi dalla necessità assoluta di avere un'assistenza H24 al rimanere da soli così sono bastati per un quadro clinico delicato come quello di mio padre, tre giorni per andare a picco nel peggioramento di tutto e quindi dopo altri, cioè dopo i successivi tre giorni appunto mio padre è morto il 2 di marzo. Quindi sono rimasta a fare la caregiver a mia madre che è invalida anche lei e purtroppo questa situazione ha peggiorato tutto perché persone come i soggetti che stiamo descrivendo quindi estremamente delicate, estremamente fragili sono degli abitué alla fine del pronto soccorso e anche dei ricoveri cosa che adesso è veramente sconsigliabile perché poi i parenti non possono entrare, gli eventuali badanti o assistenti non possono entrare perciò si ritroverebbero da soli in una stanza di ospedale. Quindi questo fa vivere veramente in maniera traumatica anche i familiari che sono gli unici che alla fine si prendono a carico di queste persone. Io personalmente ora che siamo nel periodo del coronavirus dato che sono un insegnante e sto facendo la didattica a distanza, cerco di gestirmi la meglio possibile e nel frattempo passo tutta la mia giornata con mia madre la quale oltre ad avere tutti i suoi problemi è anche mandata a terra dalla depressione che le è venuta stando in casa. Anche io stessa mi rendo conto che davvero stimolarla 24 ore su 24 lì così solo noi senza la possibilità di qualcuno che venga a trovarla o noi che andiamo a salutare qualcuno chiaramente con la carrozzella e tutto il resto è veramente veramente molto difficile e complicato. In più io mi reputo anche fortunata perché grazie alla pensione dei miei genitori abbiamo la possibilità di avere dei badanti che aiutano anche la notte di modo che noi io e comunque le mie sorelle possiamo dormire serenamente e comunque è durissima. Non so veramente altre famiglie come possano fare senza magari avere la possibilità di pagare altre persone che diano una mano nella gestione nella gestione delle persone che hanno bisogno.